guarda che quello è il sentiero lungomare non c'entra un cazzo è il lungomare quello lì è il lungomare quello dovevi passare nel paltone no lì vedi che loro sono andati a lavare la moto con tutta la schiuma che c'è lì sotto hanno lavato tutto vedi però vedi che non fuma più è entrata tutta l'acqua nello stivale cosi lo vedete l'elicottero comunque una volta fuma di dietro una volta fuma davanti già organizzato io sono su quello della lampadina ma deve andare col pulpo non deve andare con qualcosa lì e non andava e non andava infatti ti brucia va bene va bene